Il 17 agosto del 1427 a Parigi arrivò la prima carovana di zingeri, ma l'accoglienza non fu delle migliori. Proseguendo dopo l'arco, una ragazzina di quell'epoca ha avuto coraggio di avvicinarsi a una zingara di nome Orup, per farsi leggere la mano, ma succedere impensabile. Orup era sempre più convinta a voler cambiare aspetto per rifarsi una vita e così. Il popolo errante dopo essere stato mandato via dalla Francia, si trasferì a Pointeuse e rimase lì per un po'. Orup, da quando aveva cambiato il suo aspetto, venne allontanata dal suo popolo, mando incontro alla sua fortuna. Il guerriero sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e, talvolta una certa dose di follia. Questa frase di Paolo Coelho, la vedo proprio. Indicata però Orup, che ha rischiato la vita, pur di non essere espulsa dalla società. Per una zingara non era così semplice avere un figlio. Costei doveva passare la sua gravidanza in isolamento perché aveva commesso un atto impuro e non poteva toccare nemmeno. Per completare il rito di purificazione, la nomade dopo aver partito doveva immergersi nel fiume ghiacciato e non sembrava affatto contento. Degli altri riti preferirei non parlarne, se vi va vediamo quelle che sono le tradizioni nell'altra parte del mondo. Degli altri riti preferirei non parlare. Degli altri riti preferirei non parlare. Degli altri riti preferirei non parlare. Degli altri riti preferirei non parlare.